salve ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio della serie su come realizzare il vostro platformer anni 80 preferito ma in 3d e con unreal io sono alessandro salute e come sempre questa serie is powered by event horizon school in questa lezione ci occuperemo di integrare quelle logiche che permettono al vostro character di uccidere i nemici in gioco dal nostro account browser prendiamo un bp base enemy e lo portiamo in scena ricordiamoci di modificare le coordinate della x in 1200 per far sì che vada incontro al nostro player spostiamolo per dare un po di margine avviamo un play vi ricordate quando il nostro nemico è in collisione col character trigger la funzione death e cambia anche direzione ma quando con il nostro character si salta sopra sopra il cubo si salta idealmente in testa non succede nulla adesso andremo a integrare queste logiche andiamo nel nostro side scroller character e entriamo nella funzione check to squeeze facciamo get character movement cerchiamo la funzione is falling return value colleghiamo un branch e colleghiamolo a check to squeeze fuori dal lato true cerchiamo un spare trace for objects prendiamo il nostro capsule component get word location facciamo vector più vector e al valore z inseriamo un meno 70 colleghiamo questo allo start e al pin end a radius attribuiamo un valore di 20 object type make array aggiungiamo un pin per inserire anche word dynamic compile and save out it facciamo break hit result estendiamo la finestra e cerchiamo il nostro hit actor facciamo un cast to base enemy e colleghiamolo al nostro ex compile and save andiamo nel nostro bp base enemy e creiamo un custom event che chiameremo andiamo non il nostro servizio il nostro operazione è e proviamo l'estima che abbiamo ri-e andiamo nel blueprint del side-scroller character asbp-enemy chiamiamo la funzione squeezed compile and save andiamo nell'event graph copiamo e incolliamo il nostro timer colleghiamolo e indichiamo il nome della funzione check to squeeze time facciamo 0.05 lasciamo looping compile and save testiamo il nostro eccoci qua il nostro sistema funziona torniamo in check to squeeze e su draw the bug type lasciamo per system così ci rendiamo conto di come stia funzionando il nostro sphere trace for object testiamo ancora una volta funziona perfettamente testate sempre molte volte ragazzi fa parte del processo di prototipazione torniamo nel nostro side-scroller character pulsante destro la funzione launch character in questo modo daremo una spinta ogni volta che salta sulla testa del nostro base enemy vediamo alla zeta un valore di 700 compare save play vedete che adesso non cade più immediatamente sopra sul terreno ma ottiene una piccola spinta verso l'alto sulla zeta di 700 giocate tranquillamente con questi valori fino a quando non avete il feeling che vi piace di più proviamo con 1500 vediamo cosa succede sono un po' troppo ancora un po' troppo proviamo con 1000 compare and save facciamo questi identitativi fino a quando non abbiamo un feeling che ci piace con quello che è il risultato che desideriamo ottenere ecco adesso questa spinta eccessiva perché abbiamo l'effetto rincorsa no decisamente troppo vediamo ancora il nostro base enemy nel side scroller character e questa volta riportiamolo a 700 che sembrava essere la distanza giusta il feeling mi sembra buono è quasi it's me farei forse ancora un tentativo ma no magari proviamo a cambiare il valore in 900 forse un pochino di più voi che ne dite? a me non dispiace affatto vediamo con un po' di rincorsa testiamolo soddisfacente adesso andiamo nel nostro side scroller character andiamo nell'event graph facciamo un po' d'ordine e qui aggiungiamo un'altra piccola modifica per rendere tutto più smooth da input action cerchiamo un branch e come condizione prendiamo la nostra variabile is squeezing compile and save spostiamo il branch true su false dal branch true cerchiamo launch character inseriamo un valore di 500 settiamo la variabile is squeezing false e colleghiamolo a play from start della timeline jumping da character movement cerchiamo set gravity scale colleghiamola al branch true e poi a launch character compile and save adesso non ci resta che provare a utilizzare i nostri nemici come trampolino per un nuovo salto forse non va bene portiamo lo z-value a 200 e adesso un po' di fast forward come quella vecchia serie comica anni 70 80 inglese non si può dire testiamo giochiamo cambiando valori fino a quando otteniamo l'effetto che vogliamo ricordo ragazzi questo tutto questo codice è martellato quindi non vi aspettate l'assenza di incidenti e problematiche ce ne saranno sempre ma di nuovo dobbiamo avere il nostro feeling quindi andate avanti a testare fino a quando otterrete il vostro jump on squeeze desiderato mi raccomando non puntate alla perfezione ma soltanto al feeling al momento per me il valore ideale è 200 ma torno al mio check to squeeze modifichiamo il nostro launch character portiamo anche questo a 300 no non mi convince riportiamo la 900 compile and save qualche altro piccolo test e ragazzi direi che è il feeling che desidero giocate con questi valori quanto desiderate fino a quando non non ottenete il feeling che ricercate e anche per oggi è tutto ci vediamo alla prossima lezione ciao ciao